Milan Bologna Bologna sedicesimo Milan sesto può agganciare la Lazio Milan Bologna dodici Arnautovic Milan nove giro parro nove pure maledizione parro bello 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 sono l'odio e si asso dal primo tempo eh si c'è grande attesa per la sua prova e non potrebbe essere altrimenti se ne è parlato molto alla vigilia è in un momento di forma eccezionale ha segnato tre gol nelle ultime tre partite un vero e proprio problema per la difesa avversaria ancora pochi istanti e poi si comincia si gioca in un sanzilo gremito speriamo che il match si riveli all'altezza Piero Cipardo vi saluta vi ringrazia per aver scelto ancora una volta EA Sports con me come sempre Lele Adani scende in campo lo spettacolo della Serie A Team in campo le formazioni di Milan e Bologna le squadre in campo i tifosi sugli spalti la cornice di questo splendido stadio ci sono tutti gli elementi Pier e stiamo per assistere a uno spettacolo favoloso e personalmente non vedo l'ora e non vedo l'ora dal primo tempo Giroud dal primo minuto vediamo se è il pupillo solo tuo tutti e nove mi sa che gli ha vatti a te dal primo tempo Messias al posto di Brahim Diaz perché non ti ha giocato bene prima e infatti guardatelo fuori fuori uuuuuh sono belle magliette per Milan io ce ne ero da vario ma ero da me ho sempre detto a sta cosa buon bel colore con il minimo scarto per loro nell'ultimo fuori Carnato dice che sta a 12 mica gioca Leao le ultime settimane è stato un autentico incubo per le difese di questo campionato nessuno non uno ha trovato un modo per fermarlo e lui ne ha sempre approfittato segnando una valanga di gol prova ad andare lungo sulla corsa dell'attaccante pericoloso il Bologna ecco ecco Soriano interrompe l'azione pericolosa che si che pallone che pallone che si radiocomandato Giru ma che cazzo fai vuoi segnare niente mano rigore male che evita un gol fatto bravo l'arbitro qui ha aspettato e rivedere se ci fosse il vantaggio maledizione brutto passaggio e possesso regalato che si informesima oggi Milan che avanza Messias un po' meno Bologna che tenterà tutto per strappare il pareggio Medel Nicolás Dominguez recupera bene qui il passaggio parità assoluta cercano continuamente il tiki-taka Messias mentre Giru proprio si disinteressa della partita altra brutta gestione della palla giro sventa qui la minaccia e non è fallo sottobotta il Bologna Arnautovic Soriano recuperano bene il pallone la squadra di casa ha tenuto di più la palla come sottolineato anche dal dato sul possesso il risultato rispecchia le loro difficoltà nel creare occasioni da rete la dimostrazione di come nel calcio non basta tener palla più degli avversari c'è vabbè l'assist bisogna tirare in porta se si vuole segnare fino a qui l'hanno fatto troppe poche volte va cambiata la marcia sono troppo prevedibili difficile mettere in difficoltà gli avversari giocando solo 99 di accelerazione di rinco De Silvestri Nicolás Dominguez Soriano che primo tempo del merda girò fuori subito ok mamma mia se ho del legno oggi grazie a tutti tutto valutato questo a Bologna è tutto pronto a San Siro per il calcio d'inizio del secondo tempo dai Eibra forza anche a meno 2 se sempre Ibra e Imoic non è quello contrasto pulito pallone in out Ibra ferma tutto e beh Ibra e Imoic è bene a mettere le mani in testa non farci alle limit non testa ho preso l'ho preso il popolo milanese un gol è sempre un gol certo che qui non poteva proprio sbagliare ed ecco dunque è arrivato il primo gol dell'incontro 1 a 0 avanza sulla tre quarti ma da dove passa per trovare il gol del pareggio Ibra porco dio ma su questo di parlo non sul secondo possibile lo fa de scorpione lì non sbagliano mai questi Nicolás Dominguez Nicolás Dominguez Arnautovic buon recupero di Romagnoli non sbagliare l'incontro 1 a 0 ma è già una madonna di tete e di tete vi piace il calcio volete vedere giocate spettacolari tanti gol sapete cosa fare può avvicinarsi alla porta che cazzo gli è rimasta lì oh sto scorupski ma rotta il cazzo le pia tutte 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 guarda guarda l'offensive per Milano quanto è scoperto oh incredibile che si ricorda buon vero Milano a San Siro cade cade il Milano a San Siro con cui la messa dentro da sottomisura match che riprende ad allungato portandosi sul 2 a 0 la paula spacca a metri a disposizione Brahim Diaz un pallone che termina 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 brutto il Milano brutto 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 ma non non è che è duro è Moshe proprio Moshe troppo scoperti voi tirato vantaggio che non si è concretizzato dunque l'arbitro assegna il calcio di punizione mancano dieci minuti alla fine della gara buon lo spunto qui occhio all'occasione per riaprire il match ed è dentro c'è ancora vita c'è ancora una partita possono provare Brahim Diaz il numero di Brahim Diaz questa è l'azione che ha portato al gol ha avuto la palla buona e non ha lasciato scampo al portiere da pochi passi punteggio cambiato ora siamo sul risultato di 2 a 1 stiamo entrando negli ultimi 5 minuti con un gol fatte sto cavarga Dio non è possibile mannaggia la madonna è di leao la sua madonna non è possibile Milano è caduto a San Siro dei punti importantissimi perca madonna non è possibile non è possibile Grazie.